Eccoci, perfetto. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Benvenuti alla seduta del Consiglio Comunale di giovedì 28 novembre. Sono molto contenta di questa piena presenza e ringrazio chi ci seguirà da casa nei prossimi giorni. Da domani la registrazione sarà disponibile sul sito e ringrazio anche chi è in presenza ad assistere al Consiglio Comunale. Abbiamo lavorato dal Consiglio precedente per sistemare la questione dei microfoni che dovrebbe essere definitivamente sistemata. Per cui insomma ci aspettiamo poi un feedback magari se qualcuno guarderà la registrazione nei prossimi giorni perché il volume e le parole siano adeguate per seguire anche la registrazione sul canale YouTube del Comune. Do la parola alla dottoressa Maglione per l'appello. Betti Gianluca Gambarini Simone Sturba Giuseppe Ghedini Lenia Sciarretta Michele Torsello Andrea Del Fiume Raganato Giuseppa Cavaliere Ivano E Reina Alice Passiamo ora al punto numero uno che è la mia comunicazione post alluvione ottobre 2024. Voi troverete come ho già detto la scorsa seduta di consiglio che io lascerò questo punto in modo che possa darvi aggiornamenti nel caso in cui ci siano e diversamente insomma il punto mi permette anche di inserire gli aggiornamenti dell'ultimo momento. Purtroppo non ho aggiornamenti rispetto all'uscita di decreti governativi quindi dopo che è stato dichiarato lo stato di calamità nazionale non c'è nessun decreto da parte del governo che dichiari chi è il commissario incaricato alla ricostruzione che definisca con che modalità deve avvenire la ricostruzione quindi tutti gli interventi post alluvione e frane e nemmeno la copertura economica appunto per effettuare gli interventi. Sono invece molto felice di potervi dire che le sei persone che erano evacuate questa settimana sono potute rientrare pienamente nelle loro abitazioni e quindi non abbiamo più evacuati relativi agli eventi catastrofici di ottobre 2024 insomma sono molto felice perché sicuramente per loro è una grande serenità. Passiamo ora al punto numero due all'ordine del giorno sul bilancio di previsione finanziario 2426 variazioni e applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione esercizio 2023 do la parola all'assessore Passaglini. Grazie Sindaca, buonasera a tutti come avevamo visto già in commissione consigliare abbiamo questa variazione di bilancio che come sapete è l'ultima variazione di bilancio del 2024 perché possono essere deliberate entro il 30 di novembre e quindi per quest'anno ovviamente corrente. Questa è una variazione di bilancio che segue quella che abbiamo portato nel precedente consiglio per tre principali ragioni. Vi è un finanziamento con applicazione dell'avanzo di amministrazione libero per spese di investimento per 150.562,18 Euro per finanziare gli interventi di via Bernardi che poi illuccherà meglio di me la Sindaca e anche per riscattare l'accusura di un contratto con Beghelli per dei corpi illuminanti. Mentre c'è un altro inserimento pari entrata, pari spesa per 100.000 Euro per fare una rilevazione contabile per acquisire patrimonio perché tutte ovviamente le registrazioni che noi andiamo a inserire a patrimonio devono essere preventivamente fatte transitare in contabilità di 100.000 Euro legato al comparto del Bacchello. Questo che viene acquisito a patrimonio comunale. Questa è l'illustrazione della variazione, adesso ora lascio la parola alla Sindaca magari per i chiarimenti. Grazie Assessore, parto appunto dall'intervento più cospicuo che è quello relativo alla realizzazione di un percorso alternativo al tracciato della via Bernardi lungo Samoggia non più esistente. Si tratta di una strada, di un tratto della via Bernardi che scorreva, che era diciamo di fianco al torrente Samoggia e che prima giugno, poi a settembre, poi a ottobre è stato definitivamente spassato via per cui con questo intervento si va a realizzare una strada, un percorso parallelo ma più verso la parte pede collinare che consentirà nuovamente alle persone residenti appunto in via Bernardi di poter essere connesse con il sistema di viabilità più comodo. Esiste un'alternativa sulla via Serretti, via dei Serretti, ma in realtà appunto questa alternativa è un'alternativa che può andare bene nelle fasi diciamo fino all'autunno in modo particolare e soprattutto è un'alternativa che non è la più consona per poter essere percorsa soprattutto come dicevano le condizioni invernali perché ha dei tratti con delle pendenze del 18% e quindi attraverso questo intervento noi andiamo a realizzare nuovamente un tracciato che è alternativo rispetto a una strada del comune di Monte San Pietro che serviva appunto le abitazioni di quella via. L'altro intervento è appunto semplicemente un'entrata e un'uscita per un contratto di appalto che è terminato per cui va effettuato un riscatto anche se poi la cifra è assolutamente minima perché come dire siamo sotto i 1000 Euro e poi invece c'è un'emissione anche qui a patrimonio per quello che riguarda il consorzio Bacchello, è un perfessionamento di una convenzione che si è finalmente realizzata e attuata e quindi si rende necessario iscrivere in entrata e in uscita l'importo di 100.000 Euro. Chiedo se rispetto a questo punto ci sono richieste di intervento. Non vedo richieste di intervento, procederei quindi con la votazione che prevede per questo punto una doppia votazione anche sull'immediata eseguibilità. Quindi pongo in votazione il punto numero 2 all'ordine del giorno, variazione e applicazione di parte dell'Avanzo di amministrazione esercizio 2023, bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Chi vota a favore? Direi voto favorevole all'unanimità, procediamo ora con la votazione sull'immediata eseguibilità del punto numero 2, quindi dello stesso punto. Per l'immediata eseguibilità chi vota a favore? Voto favorevole all'unanimità anche sull'immediata eseguibilità. Passiamo ora al punto numero 3 all'ordine del giorno che è la verifica quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza alle attività produttive terziarie. A lei la parola, Assessora Iodice. Grazie Sindaca e buonasera a tutti e tutti. Premetto che l'argomento è stato trattato anche in occasione dell'incontro delle commissioni congiunte dello scorso 26 novembre. Allora, questa è una verifica che viene effettuata e poi portata in consiglio ogni anno, in consiglio perché è importante presentarla in questo periodo proprio ai fini del bilancio, in quanto la normativa appunto prevede l'obbligo di allegare annualmente questo documento al bilancio di previsione prima dell'approvazione del bilancio. Questo perché? Perché i comuni, con questa proposta di delibera, che cosa succede? I comuni verificano in generale la quantità e la qualità delle aree o dei fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive o terziarie che possono poi eventualmente essere ceduti in proprietà o in diretto di superficie. Contestualmente se dovessero emergere queste caratteristiche, che cosa succede? Succede che i comuni stabiliscono il prezzo di cessione di queste aree o dei fabbricati. Per questo è fondamentale poi allegare eventualmente il documento al bilancio. Questo come inquadramento generale. Nello specifico da noi, visti i nostri strumenti urbanistici vigenti, quindi il PSC e il RUE e le diverse varianti. Poi fino al 2019 è emerso che non esistono aree o fabbricate da destinarsi appunto quindi a zona PEP o a zona PIP. Quindi questa è la sostanza di questa proposta di delibera. Quindi non c'è nulla da allegare o a integrare oltre alla delibera al bilancio. Ecco, questa è in breve la proposta di delibera. Io poi mi fermerei qui nel caso sono a disposizione. Grazie Assessora. Chiedo se ci sono delle domande su questo punto delle richieste di intervento. Non vedo nessuna richiesta di intervento per cui procederei con la messa in votazione del punto numero 3 all'ordine del giorno che è la verifica quantitativa e qualitativa delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Prevede anche questo punto la doppia votazione anche per l'immediata eseguibilità. Votiamo ora il punto. Chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Direi nessuno. Per l'immediata eseguibilità chi vota a favore? Chi si astiene? Chi vota contro? Direi nessuno. Bene, passiamo ora al punto numero 4 all'ordine del giorno. Parliamo del piano operativo di sviluppo 2025 società ad opera patrimonio e investimenti Casalecchio di Reno SRL. Direi che la prima cosa da cui partirei è una brevissima descrizione di che cos'è ad opera. Avete avuto modo guardando il piano di sviluppo 2025-2027 che in realtà oltre ad essere un piano di sviluppo fa anche il punto della situazione e quindi dei diversi passaggi che ci sono stati all'interno della società, vi permette proprio di avere un quadro preciso. Però per chi ci segue ad opera è una società in house per l'esercizio di servizi pubblici locali totalmente partecipata dai comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa che ha per oggetto la gestione di servizi pubblici e la manutenzione di beni demaniali e patrimoniali dei comuni soci. La società opera secondo le modalità proprie dei cosiddetti affidamenti in house e pertanto i soci pubblici esercitano su di essa quello che si chiama il controllo analogo ed è quello analogo esercitato sui propri servizi. Si intende esercitato in forma di indirizzo, monitoraggio e verifica con i tempi e le modalità che sono state stabilite dallo statuto della società. Oltre a questo l'amministratore unico relaziona i soci sulla pianificazione delle attività e su ciò che è stato svolto nel corso dell'anno e dentro il termine previsto per la presentazione dei bilanci comunali presenta ai consigli comunali il budget dell'esercizio di riferimento contenente il piano operativo annuale della società per la successiva approvazione. Il piano operativo viene redatto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi quindi forniti dai comuni soci e contiene il conto economico aggregato aziendale, il prospetto riepilogativo degli investimenti per tipologia, il prospetto della pianificazione finanziaria, il prospetto riepilogativo delle variazioni del personale dipendente. I contenuti del piano di sviluppo come dicevo ha uno scopo programmatorio e anche quello di organizzare in una dimensione temporale le attività e le risorse necessarie per realizzare quelli che sono gli obiettivi che si sono dati i soci ed è elaborato in coerenza con i fini ovviamente istituzionali e le linee programmatiche indicate dai comuni soci. Rappresenta quindi uno strumento che consente un'attività di guida strategica ed operativa di ad opera nel rispetto del coordinamento e coerenza con i diversi documenti che sono quelli di bilancio e il presupposto di tutti gli atti di programmazione e gestione. Si compone di premessa con illustrazione dei contenuti e requisiti del piano di sviluppo, analisi del contesto di riferimento, descrizione del modello organizzativo, obiettivi e linee del piano di far bisogno del personale, sostenibilità del piano di sviluppo. oltre a questo documento che è diciamo una novità, è una novità, abbiamo anche il piano operativo aziendale che invece di essere annuale è stato redatto in forma pluriennale, pluriennale e triennale esattamente come gli altri strumenti di cui noi ci dotiamo per programmare e per fornire le risorse per attuare la programmazione che sono il DUP e il bilancio. Ricordo che ad opera non deve fare utili, quindi nel caso in cui vi siano delle risorse ulteriori rispetto a quelle previste durante il corso dell'anno oltre al pareggio di bilancio, vengono reinvestite in servizi. Come appunto previsto nello statuto, nel patto parasociale, la società redige quindi questo piano operativo aziendale che serve come strumento previsionale dell'attività e voi avete visionato appunto, insomma avete visionato quello che ci è stato spiegato in commissione dal coordinatore Cellini. Nel documento sono indicate anche le risorse destinate e servizi agli investimenti che sono oggetto durante il corso dell'anno di una serie di riunioni puntuali di verifica, allo scopo di risincronizzare poi le attività rispetto a quello che è l'andamento che non può essere previsto totalmente a inizio anno. I corrispettivi definiti e approvati nel presente documento previsionale costituiscono adeguamento di quanto pattuito nei rispettivi contratti di servizio. Il Comune di Monte San Pietro in Adopera gestisce per il Comune di Monte San Pietro i servizi cimiteriali, questo da tempo, con il passaggio da Secim ad Adopera questa è un'attività in continuità, la stessa cosa accade per gli altri comuni soci che sono Casalecchio di Reno e Zola Predosa, mentre, ed è un servizio in equilibrio come ci è stato spiegato, avete potuto vedere dai dati, mentre noi abbiamo attivato una formula innovativa che si chiama Accordo Quadro, che sta appunto ancora svolgendo un'importante funzione per il nostro Comune e abbiamo due Accordi Quadro in essere. Uno è quello relativo alle strade e marciapiedi e l'altro è relativo agli immobili, tra questi immobili comunali e tra questi vi sono anche i cimiteri. Strade e marciapiedi è stato un grandissimo beneficio, abbiamo delle ditte di grande livello e soprattutto la formula dell'Accordo Quadro permette di selezionare soggetti a monte affinché ogni volta non debba essere fatto un affidamento a valle risparmiando sui tempi e quindi ottimizzando, ma soprattutto entrambi gli Accordi Quadro li abbiamo fatti insieme al Comune di Casalecchio di Reno e questo ci ha permesso di selezionare ovviamente delle ditte di grande qualità. L'altro invece è quello che riguarda gli immobili, ci ha permesso e ci sta permettendo di realizzare gli interventi PNRR sia sulla materna di Monte San Giovanni che sulla nucleo, diciamo su una parte del nucleo di Calderino, quindi l'Istituto Comprensivo di Calderino. Quindi oltre a questo abbiamo fatto degli interventi nei cimiteri sia a Monte San Giovanni che a Calderino che a Monte Pastore e li siamo riusciti a realizzare grazie all'Accordo Quadro perché in virtù del sommarsi del PNRR con il 110 e tutta un'altra serie di attività in campo edilizio era molto difficile trovare delle aziende che facessero degli interventi sotto i 50.000 euro ciascuno. Invece grazie all'Accordo Quadro finalmente abbiamo potuto avere degli interventi in tempi certi e con ditte di qualità. Bene, dopo aver spiegato insomma un po' tutto questo direi che vi lascio la parola nel caso ci siano degli interventi. Prego, consigliera Nannetti, a lei la parola. Buonasera a tutte e a tutti. Solo per ribadire, per sottolineare l'importanza di questi accordi quadro che sono stati stipulati nello scorso mandato tra il Comune di Monte San Pietro e ad Opera e di quanto sia stato possibile arrivare ad avere e a fare sul nostro Comune. Come abbiamo sentito dalla Sindaca il piano marciapiedi che ci ha permesso di costruire collegamenti pedonali in diverse frazioni del nostro Comune e tantissimi lavori sugli immobili. quindi volevo giusto fare questo piccolo intervento anche perché è già stato spiegato tutto dalla Sindaca per ringraziare ad Opera e questa amministrazione per aver avuto la lungimiranza di realizzare questo tipo di collaborazione innovativa che ha portato a questi risultati, a questi obiettivi e che ha dato grandissime soddisfazioni a tutto il Comune. Grazie. Ringrazio la consigliera Annanetti. Chiedo se ci sono altre richieste di intervento. non vedo richieste di intervento quindi procederei con la votazione del punto numero 4 all'ordine del giorno che è per l'approvazione degli allegati piano operativo di sviluppo anno 2025 della società in house ad opera e strato del piano di sviluppo 2025 e 2027 che sono parte integrante sostanziale della delibera. Anche per questo punto ci sono due votazioni perché votiamo anche l'immediata eseguibilità. Quindi pongo in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno. Chi vota favorevole? Direi voto favorevole all'unanimità. Pongo in votazione anche l'immediata eseguibilità del punto numero 4 all'ordine del giorno. Chi vota favore? Voto favorevole unanime. Passiamo ora al punto numero 5 comunicazioni ed interpellanze. Prego consigliera Reina. Si sente? Sì. Grazie. Buonasera a tutte e tutti. Abbiamo una mozione che vorremmo presentare chiedendo di essere inserita all'ordine del giorno del prossimo consiglio in merito ai cambiamenti climatici. Considerato che il piano gestione rischi alluvione PGRA vigente è stato redato nel 2017 e aggiornato nel 2021 e che in tale piano sono considerati tempi di ritorno per eventi di piena riguardanti i corsi d'acqua presenti sul nostro territorio che variano da un minimo di 10-50 anni per piene di modesta entità a 50-200 per piene importanti e non sono disponibili dati per piene di elevata intensità quali quelle verificatasi a partire da maggio 2024. I cambiamenti climatici in essere che stanno producendo ingenti danni ai nostri territori hanno frequenza sempre più ravvicinata tra loro arrivando anche a più eventi nell'ambito di un singolo anno con precipitazioni massicce concentrate in tempi ristretti. Considerato inoltre che come riportato da ARPAE nel rapporto preliminario sull'alluvione del 19-20 ottobre 2024 le virgolette precipitazioni accumulate su 24 ore dalle ore 6 di sabato 19 all'ore 6 di domenica 20 ottobre 2024 maggiori di 100 millilitri nel vaccino del Samogio nel comune di Montesampieto sono state di 102 millimetri. Le stime preliminari sull'eccezionalità dell'evento rispetto al clima passato indicano dei tempi di ritorno maggiori di 100 anni per le precipitazioni accumulate di durata 24 ore e valori superiori ai 200 anni per le precipitazioni accumulate di durata 6 ore e 12 ore. E confrontando i dati orari con il dataset storico risulta che mediamente sul territorio del comune di Bologna e sui bacini di Samogia nel quale bacino entra anche il nostro comune e idice sono caduti in 6 ore tra le 17 e le 23 del 19 ottobre circa due terzi del valore climatico mensile atteso nel mese di ottobre dati del 1991 al 2020. A fronte di questo nuovo scenario si rende necessaria una rivalutazione dei rischi idrogeologici di quelli di alluvione che devono essere adeguati in termini di tempi di ritorno e di valutazione del rischio anche in considerazione dei sempre più frequenti eventi concatenati che insistono quindi sul territorio già colpiti poco tempo prima. La rivalutazione dei rischi e la conseguente nuova mappatura porterà quasi certamente anche ad una ridefinizione delle zone a rischio in termini ampliativi rispetto alle mappe attuali. Considerato che sono in essere nel nostro comune progetti per la trasformazione di aree in adiacenza fiumi, torrenti e righi che potrebbero ricadere nell'interno delle aree di rischio a seguito della rivalutazione del PGRA, chiede alla sindacale comune di Monte San Pietro di farsi portavoce presso la città metropolitana di Bologna e presso la regione Emilia Romagna di una richiesta di moratoria relativa a tutti i progetti ed edilizi in essere che riguardino zone potenzialmente a rischio per far sì che tali progetti non si possano realizzare fino al termine dell'isolutoria tecnica. Si impegna inoltre a non avanzare ulteriori proposti di accordo di articolo 53 legge regionale 24 del 2017 per la realizzazione e o riqualificazione di comparti fino alla premiazione del nuovo PGRA o eventuali altri strumenti definiti dallo Stato e o dalla Regione per aggiornare l'attuale scenare normativo al nuovo contesto dovuto ai cambiamenti climatici con la richiesta di inserire la presente mozione all'ODG del prossimo Consiglio Comunale utile. Aggiungo solamente che ci sembra, visto i numerosi eventi climatici prodotti dai cambiamenti climatici che stanno avvenendo, come direbbero gli inglesi, better save than story, meglio essere sicuri che puoi chiedere scusa visto che purtroppo non sappiamo quando riaccadrà ma potrebbe succedere domani, ecco nuovamente, tutti speriamo di no ovviamente, però insomma purtroppo insomma abbiamo visto che accadono sempre più spesso. Grazie. Bene, grazie a voi. Quindi questo ordine del giorno verrà iscritto nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale che vi anticipo sarà il 9 di dicembre. bene, chiedo se ci sono altre comunicazioni o interpellanze. Direi di no, quindi dichiaro conclusa la seduta odierna del Consiglio Comunale, ringrazio chi ha partecipato in sala, quindi consiglieri e consiglieri, la dottoressa Maglione che ci supporta anche tecnicamente, ringrazio il pubblico presente e chi ci seguirà da domani perché guarderà la versione diciamo registrata su YouTube. Grazie, buona serata e ci vediamo il 9 dicembre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.